Ciao a tutti! Good evening to everybody! Sono qui oggi per dirvi che le lezioni individuali e di gruppo alla 7 o'clock English School inizieranno di nuovo dal primo di settembre. Allora, per i nuovi studenti scrivetemi pure sul mio numero privato che trovate nel link in descrizione. Qui sotto c'è il link della scuola e lì trovate anche il mio numero o potete insomma commentare e vi riesco un attimo a rispondere. Per invece gli studenti che già mi conoscono, beh insomma ci siamo già sentiti in questi giorni. A chi insomma non è arrivato il messaggio, scusatemi ma un po' di messaggi da mandare. Comunque sia se siete interessati a ricominciare io sono disponibile. Adesso comunque finirò il round di messaggi a tutti gli studenti. Ad ogni modo sono qui a disposizione. Le lezioni si fanno in gruppo e le lezioni individuali. Tutto quanto sulla piattaforma della scuola. Sarà molto semplice tutto quanto perché riceverete semplicemente un link sulla mail. Da quel link voi accederete alla piattaforma della Callan, della scuola Callan, che è appunto la scuola di cui sono titolare. E poi voi entrerete in questa piattaforma e vedrete me, poi le charts, che sono queste pagine illustrative, grafici che noi utilizziamo durante le lezioni, ovviamente gli altri studenti. È molto semplice, interattivo e soprattutto efficace il metodo Callan e la piattaforma. Comunque io sono qui per qualsiasi informazione riguardo appunto a prezzi, pacchetti, orari dei corsi eccetera. Adesso sto organizzando in questi giorni tutto quanto. Scrivetemi pure, rimango a disposizione e a prestissimo. Ciao!